Quindi vogliamo prendere insieme la parola di Dio In Efesini 6.15 mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della Pace E vogliamo prendere anche Isaia 59, versetto 17 Questo magari è un pochettino meno conosciuto Però è il passo da cui Paolo prende spunto Quando parla dell'armatura spirituale Isaia 59.17 Dice egli, cioè Dio, si è rivestito di giustizia come di una corazza Si è messo in capo l'elmo della salvezza Ha indossato gli abiti della vendetta E si è avvolto di gelosia come in un mantello Quindi l'armatura del cristiano non è proprio l'armatura del cristiano È l'armatura di Dio Amen? E quindi rivestirsi dell'armatura spirituale Rivestirsi di quella che è chiamata l'armatura del cristiano In realtà significa rivestirsi di Cristo Significa rivestirsi dei suoi sentimenti Delle sue emozioni, del suo carattere Quindi identificarsi totalmente con chi è Dio E quindi con chi è Gesù Che cosa è lo zelo? Oggi parleremo dello zelo dell'eterno Lo zelo in ebraico La parola ebraica è canna Ed è la stessa per gelosia Quindi essere zelanti o essere gelosi Nella Bibbia è la stessa cosa È lo stesso tipo di sentimento È lo stesso tipo di motivazione E Dio chiama se stesso El canna Il Dio geloso E lo leggiamo in vari passi Esodo 25 Per chi lo vuole prendere Ed è riportato scritto nello stesso modo in Deuteronomio 5 Al versetto 9 Non ti prostrare davanti a loro Questo è Dio che parla degli idoli Non ti prostrare davanti a loro e non li servire Perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso Punisco l'iniquità dei padri sui figli Fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano Esodo 34 14 Tu non adorerai altro Dio Perché il Signore che si chiama il geloso È un Dio geloso Amen È il suo nome È la sua natura È la sua identità Il Signore Deuteronomio 4.24 Il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora Un Dio geloso Quindi il fuoco L'elemento di cui si parla tanto nella Bibbia Lo Spirito Santo che è come il fuoco Che cos'è? È una manifestazione dell'amore e della gelosia di Dio E' importante capire che quando si parla di questa gelosia Nella Bibbia Quando Dio dà sfogo alla sua gelosia E quindi alla sua ira Lo fa come un marito geloso Un marito geloso che vede un pericolo nella relazione Vede un pericolo che la relazione finisca Che il matrimonio si rompa Ed è per questo che agisce con violenza Con ira, con gelosia Quindi Questa natura di Dio È gelosa Esattamente come è giusta Esattamente come è santa Questo amore Questo amore Che Dio ha È un amore giusto È un amore santo Ed è anche un amore Zelante E geloso Amen Quindi noi abbiamo bisogno di abbracciare Questa dimensione del cuore di Dio E quando noi siamo zelanti Stiamo vivendo l'amore di Dio Esattamente come dovrebbe essere Naturalmente Lo spirito che è in noi È la fonte del nostro zelo E della nostra passione per Dio Quindi la passione Lo zelo Che noi abbiamo per Dio È il frutto naturale Dello spirito santo Il fatto che lo spirito santo È in noi Fa sì che siamo zelanti Amen E quando E non può essere Che noi siamo ripieni dello spirito E non zelanti Amen Perché? Perché è una contraddizione in termini In quanto che lo zelo È la natura di Dio Dio è un Dio zelante Per definizione Quindi se Dio vive in noi Noi non possiamo fare altro Che essere Zelanti Amen Ed è per questo che in Apocalisse C'è scritto Se tu non sei Né caldo né fervente Sei freddo Sei tiepido Io ti vomiterò Dalla mia bocca Ma non Perché tu dovevi fare delle cose O non le hai fatte O perché dovevi essere meglio E non lo sei stato Ma semplicemente Perché il fatto Che tu sei tiepido Parla del fatto Che lo spirito santo Non è vivo dentro di te E cosa può significare questo O che non lo hai mai conosciuto O che lo hai conosciuto E poi ti sei smarrito per strada Ok Quindi Dobbiamo fare attenzione Come ci esorta Gesù Nelle lettere di Apocalisse A vegliare A stare svegli A vegliare Sul nostro cuore E a mantenere Questo zelo Fare le opere di prima Tornare Al nostro Primo amore Nel suo zelo Dio ha fatto E farà Cose straordinarie Amen Una delle cose Che Dio fa Mosso dal suo zelo È conservare Sempre In vita Israele Amen Isaia profetizza Questo In occasione Dell'invasione Della Siria Della Siria Su Israele E Sennacherib Il re d'Assiria Che minaccia Israele Manda una lettera E Ezechia Che è il re di Israele Prende questa lettera Alla porta Davanti a Dio E intercede E Dio risponde In questo modo Che da Gerusalemme Uscirà un residuo E usciranno Degli scampati Dal monte Sion Lo zelo ardente Del Signore Farà questo E poi quando Deve essere ricostruito Il Tempio Zaccaria 8 Così parla Il Signore Degli eserciti Io provo Per Sion Una grande Gelosia Sono geloso Di lei Con grande Ardore Ed anche Ezechiele 39 Perciò Così parla Il Signore Dio Ora io farò Tornare Giacobbe Dalla deportazione E avrò E avrò Pietà Dio Il fatto stesso C'è scritto Fosse zelante Amen Amen Un'altra cosa Che è lo zelo Dell'Eterno Che fa Favorisce in noi Il processo Di santificazione E vogliamo Dice la parola di Dio Essere amico del mondo Si rende nemico di Dio Oppure pensate Che la scrittura Dichiari in vano Che lo spirito Che egli ha fatto Abitare in noi Ci brama Fino alla gelosia Quindi lo spirito Che abita in noi Ci brama Fino alla gelosia E ci porta Lontano Dalle vie del mondo Amen Anzi Egli ci accorda Una maggiore grazia Perciò la scrittura dice Dio resiste ai superbi Ma dà grazie agli umili Sottomettetevi dunque a Dio Ma resistete al diavolo Ed egli fuggirà da voi Avvicinatevi a Dio Ed egli si avvicinerà a voi Pulite le vostre mani O peccatori E purificate i vostri cuori O doppi d'animo Siate afflitti Fate cordoglio E piangete Sia il vostro riso Convertito in lutto E la vostra allegria In tristezza Umiliatevi davanti al Signore Ed egli vi innalzerà Amen Amen Poi c'è un altro passo Nell'Antico Testamento Che è figura Di quello che lo Spirito Santo Fa nel Nuovo In seconda cronaca 29-34 C'è scritto Ma i sacerdoti erano troppo pochi Perché vengono offerti Sacrifici in gran numero E non potevano scorticare Tutti gli olocausti Perciò i loro fratelli I leviti Li aiutarono Finché l'opera fu compiuta E finché gli altri sacerdoti Si furono santificati Perché i leviti Avevano messo più zelo Dei sacerdoti Nel santificarsi Quindi in questo caso I leviti avevano messo più passione Nel santificarsi Erano stati più veloci E quindi avevano fatto più fatica A sacrificare E potevano aiutare Il resto del sacerdotio A santificarsi anche loro E questo succede Allo stesso modo Nella Chiesa anche oggi Coloro che sono infiammati E zelanti Trasmettono il fuoco Agli altri Amen Un'altra cosa Molto importante Che Dio fa Nel suo zelo È giudicare il mondo E distruggere i suoi nemici Amen Isaia 26,11 Signore La tua mano è alzata Ma quelli non la scorgono Essi vedranno lo zelo Che hai per il tuo popolo E saranno confusi Il fuoco divorerà I tuoi nemici Ci sono tantissimi passi Io ne ho messi solo due Sofonia 3,8 Perciò aspettami Dice il Signore Per il giorno Che mi alzerò Per il bottino Perché ho decretato Ascoltate bene Ho decretato Di radunare le nazioni Di riunire i regni Per versare su di loro La mia indignazione Tutto l'ardore Della mia ira Poiché tutta la terra Sarà divorata Dal fuoco Della mia gelosia Wow Tremendo e glorioso Amen Un fuoco consumante Che raduna i suoi nemici Per esterminarli E' un'immagine terribile Per chi non conosce Dio Per chi non conosce Che questa è la manifestazione Del suo amore Amen Quindi Dio Nella sua passione Travolgente Nella sua gelosia Nel suo zelo Ha creato un piano Per Israele Ha creato un piano Per il resto Delle nazioni Ha portato la salvezza In Gesù Ha un piano Per gli ultimi tempi Per portare la giustizia E per distruggere I suoi nemici Ed ha un piano Per la santificazione Della chiesa Amen Vedete come questo Questo spirito È un motore Nel regno dei cieli Amen Tutto è motivato Da un grande zelo E se noi facciamo parte Di questo regno E noi ne facciamo parte Non possiamo fare altro Che muoverci In questo modo Amen Siamo con Dio Non siete con me Siamo con Dio Amen Ora Quindi tutto quello Che Dio fa È mosso Dallo zelo È fatto Con zelo Dio È Geloso Particolarmente Degli idoli Nel suo popolo Siano essi Altri dei O amori carnali Più forti Dell'amore Che abbiamo per lui E così come La nostra adorazione È un profumo Soave Che rallegra Il suo cuore Un idolo Presente nella chiesa O nella nostra vita È un fumo Negli occhi Così irritante Che Dio Non può distogliere Lo sguardo E la sua azione Da esso Fino a quando Non lo ha distrutto Amen C'è un passo Molto bello In Ezechiele La parola gelosia È riportata Tantissime volte C'è questo capitolo Ezechiele 8 Versetto 3 Dove c'è scritto Egli Cioè Dio Lo Spirito Santo Egli stese una forma Di mano E mi prese Per una ciocca Dei miei capelli Lo Spirito Lo Spirito Mi sollevò Fra terra e cielo E mi trasportò In visioni divine A Gerusalemme All'ingresso Della porta interna Che guarda Verso il settentrione Dove era situato L'idolo Della gelosia Che provoca Gelosia E poi questa cosa Viene ripetuta Varie volte Nel capitolo Cioè Dio Prende Ezechiele E lo porta Nella casa di Dio E lì c'era Questo idolo Questa statua Che provoca Gelosia Anche se tutto il resto Andava bene Anche se c'era pace Poteva essere Tutto perfetto Ma c'era Quell'idolo Fermo lì Nella casa di Dio Che provocava Dio a gelosia Era irritante Era fastidioso Al punto che Dio Non poteva fare altro Il suo sguardo Continuava a tornare lì Su quell'idolo Finché Non venisse Distrutto E Dio fa Esattamente Questa cosa In ognuno di noi Nel nostro cuore Amben Non perché lui Punta il dito Non è questo Lo spirito con cui Dio opera nel nostro cuore Non è che punta il dito Sui nostri idoli No Lui viene Con amore Per abbattere Quell'idolo Affinché non ci sia più Un muro Che impedisce La manifestazione piena Del suo spirito E del suo amore Amben Lui si vuole fare Spazio Spazio E ci sono degli idoli Che devono essere Abbattuti Amben E Dio è Tremendamente Risoluto In questo Ed è un'opera Di amore Lui Non scappa Da noi E tante volte Come in un matrimonio Quando c'è qualcosa Che non funziona Però la coppia Ha un patto Che cosa succede? Io una volta ho sentito Una persona Che ha detto Una cosa molto bella Che il bello Del matrimonio È che alla fine Si torna a letto Nello stesso letto E quindi Che cosa significa? Che devi andare a letto E risolvere Quella questione Se tu vieni a letto Non possiamo stare Nel letto litigati Si sta malissimo Nel letto litigati Quindi cosa succede? Ti corri Chi è arrabbiato Poi qualcuno comincia Uno dei due Comincia la discussione Si litiga Si litiga Poi alla fine Si fa la pace Perché non si può andare A dormire litigati Quindi Eh? In un modo O nell'altro Bisogna fare la pace E Dio è lo stesso modo Lui ha ingaggiato Una relazione Lui è il nostro sposo Lui ha ingaggiato Un patto con noi Siamo in una relazione D'amore E quindi bisogna Risolvere le cose Non si può scappare Dal problema E Dio certo non scappa E te lo continua A riproporre Fino a quando Non lo hai risolto Ambe? Questo è amore Ok Ora Noi dovremmo collaborare Con il suo processo Di distruzione Nella nostra vita Ambe? E qui c'è Un punto Molto Importante Che vorrei Che a cui prestasse Attenzione Che non dobbiamo Distruggere Quello che noi Pensiamo sia un idolo Ma quello Che lui Identifica In noi Come tale Con una rivelazione Specifica Ovvero 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 Quando una persona Essere zelanti Ed essere legalisti Si fa molto presto A saltare Dall'altra parte Cosa è Che identifica Essere zelanti Nel modo corretto Quindi zelo Codardo Che sembra Che sembra Che sembra andare In contrasto Con tutto questo Che dice Non essere Né troppo giusto Né troppo santo Perché vorresti Distruggerti? Questo è un verso Molto importante Cioè Noi Non possiamo Perseguire Giustizia E santità Con i nostri pensieri E neanche possiamo Lottare contro Nei stessi Pensando che ci sono Delle cose In noi che non vanno Perché questo Ti toglie Energia Speranza Fede Gioia Quindi Non perdere tempo A combattere Contro te stesso Con quello che tu pensi Sia sbagliato Ma Ascolta Dio E finché Se Dio non ti dice Questo non funziona Sistemalo Vuol dire che vai bene Credete che andate bene A volte ci vuole più fede A credere che stiamo andando bene Questo è importante Quindi Se Dio ci dice Di sistemare una cosa Sistemiamola Ok? Dio ce lo può dire Con una rivelazione specifica Ce lo può dire Però Vi posso garantire Che quando Dio Punta qualcosa È molto specifico È proprio impossibile Non capire Che Dio ti sta parlando Di una cosa Ok? Se Dio non lo fa Quando tu glielo chiedi Dio non ti evidenzia nulla Non perdere Tempo Ad aggiustare Quello che non si può Aggiustare Ok? Se Dio non te lo indica È o perché Non c'è Anche se tu pensi Che ci sia O perché Non sei pronto Per affrontarlo Amén? Quindi Lascia A Dio Il processo Della santificazione Collabora Con il processo Di santificazione Che Dio Inizia Amén? Che Dio Porta avanti Distruggi gli idoli Insieme a lui Quelli che lui Punta Ok? E per esempio Faccio un esempio Magari 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 noi pensiamo Che il nostro problema Più grande Sia Che non preghiamo abbastanza Però poi Dio Attraverso Dei sogni Attraverso Delle persone Ci fa capire Che invece Il punto più importante È che noi Non ospitiamo Le persone a casa Allora Allora Dobbiamo concentrarci Su quello che Dio Ci dice Ed essere Ubbidienti Questo porta Il vero frutto Amén? E questo è ciò Che non ci fa Camminare nel legalismo Non dobbiamo essere Accusatori Di noi stessi Perché c'è già Qualcuno Che ci accusa Ed è Satana Amén? Ok Spero che Questo punto L'ho spiegato bene È chiaro? È chiaro? Ok Ora Lo zelo È ciò che anima Lo spirito Guerriero Quando noi parliamo Di Dio Come un guerriero Quando noi parliamo Di una chiesa militante Stiamo parlando Di una chiesa Zelante E questo spirito Questo spirito guerriero Questo zelo È un sentimento Di gelosia E passione Uno spirito Fervente Perché è uno spirito Lo spirito Dell'Eterno È uno spirito Fervente Che ci muove A compiere Atti Risoluti E a prendere Posizione Con autorità Per un cambiamento Radicale E definitivo Amén? Quindi lo zelo Ci porta All'azione Non può essere Diversamente Lo zelo Ci porta A una decisione Radicale E a un'azione Radicale Amén? E di questo Troviamo Tanti esempi Nella scrittura Ne cito Quattro Il primo È l'esempio Di Phineas Ok? Lo leggiamo In numeri 24 Dal versetto 5 Al versetto 13 Ve lo riassumo Praticamente Israele Si sta Unendo Con Dice la parola Di Dio Con Baal Peor Si univano Con donne Straniere E adoravano Altri idoli Phineas Si alza Figlio di Eleazar Figlio del sacerdote Aronne Prende una lancia Va nella tenda Di questo israelita E trafigge L'uomo E la donna Nelle parti intime Nel basso ventre Ok? E Dio Dio dice Phineas Figlio di Eleazar Figlio del sacerdote Aronne Ha allontanato La mia ira Dai figli di Israele Perché Egli è stato Animato Dal mio zelo In mezzo a loro E io Nella mia indignazione Non ho sterminato I figli di Israele Perciò Digli Che io Stabilisco Con lui Un patto Di pace Che sarà Per lui E per la sua Discendenza Dopo di lui Questo è importante Lo zelo Della chiesa Porterà La pace Nelle nazioni Questa è una figura Profetica Lo zelo di Eleazar Ha portato pace In Israele Lo zelo Della chiesa Porterà pace Nelle nazioni Con l'avvento Di Gesù Quando la sposa Sarà pronta Gesù stabilirà Il suo regno Il secondo esempio È l'esempio Di Elia Lo sappiamo bene Lo leggiamo In Elia In Prima Re 19-10 Dio dice Quando Elia Era nella grotta Io sono stato mosso Da una grande gelosia Per il Signore Per il Dio Degli eserciti Perché i figli D'Israele Hanno abbandonato Il tuo patto Hanno demolito I tuoi altari E hanno ucciso Con la spada I tuoi profeti Sono rimasto Io solo E cercano di togliermi La vita Quindi Elia Nello zelo di Dio Aveva ingaggiato Una guerra Contro i profeti Di Astarte E di Baal E le aveva uccisi tutti E poi Yehu Come abbiamo sentito Domenica scorsa Seconda re 10-16 Lui parla Al servitore Dice Vieni con me E vedrai il mio zelo Per il Signore E sappiamo Che il suo zelo Per il Signore Lo porta a distruggere Tutta la casa Di Acab E di Jezebel E poi Gesù In Giovanni 2-13 La Pasqua dei Giudei Era vicina E Gesù Salì a Gerusalemme Trovò nel Tempio Quelli che vendevano Buoi Pecore Colombi E i cambiavalute Seduti Fatta una sferza Di cordicelle Scacciò tutti fuori Dal Tempio Pecore e buoi Sparpagliò il denaro Dei cambiavalute Rovesciò le tavole E a quelli che vendevano I colombi Disse Portate via Di qui Queste cose Smettete di fare Della casa Del padre mio Una casa di mercato E i suoi discepoli Si ricordarono Che sta scritto Lo zelo Per la tua casa Mi consuma Ambe? Quindi Vedete Azioni Risolute Decisioni Drastiche E azioni Risolute Così Se noi Condividiamo Il cuore di Dio Lo zelo di Dio Questo zelo Ci porta Inevitabilmente Ad avere Zelo Per la Chiesa Ambe? E zelo Per la Chiesa Significa Zelo Per le persone E zelo Per il servizio Ed è importante Che noi Non separiamo Queste due cose Ambe? Perché Dobbiamo Servire le persone E dobbiamo Servire l'opera E l'opera Serve le persone Ambe? Quindi Dobbiamo Toccare Gli uomini E dobbiamo Lavorare Nelle cose Pratiche Ok? Noi Purtroppo Usiamo Dei termini Sbagliati Quando parliamo Di pratico E spirituale No È tutto No è tutto Spirituale Possiamo Parlare Di visibile E invisibile Ma è tutto Spirituale Così come Tutto Pratico Anche la preghiera È pratica Amen Quindi Essere Zelanti Per la chiesa Secondo Corinzi Undici Versetto Due Paolo Dice Io sono Geloso Di voi Della gelosia Di Dio Perché vi ho Fidanzati A un unico Sposo Per presentarvi Come una Casta Vergine A Cristo Quindi C'era un desiderio Nel cuore Di Paolo C'era una gelosia Nel cuore Di Paolo Per la chiesa Ed era Un desiderio Una gelosia Che la chiesa Vivesse In santità Amen La gelosia Di Dio In Paolo Voleva la santità Nella chiesa Amen Romani 12 9 Prendiamolo Tutti insieme Questo L'amore Sia senza Ipocrisia Aburrite il male E attenetevi Fermamente al bene Quanto all'amore Fraterno Siate pieni Di affetto O gli uni Per gli altri Quanto all'onore Fate a gara Nel rendervelo Reciprocamente Quanto allo zelo Non siate pigri Siate ferventi Nello spirito Servite il Signore Siate allegri Nella speranza Pazienti Nella tribolazione Perseveranti Nella preghiera Provvedendo Alla necessità Dei santi Esercitando Con premura L'ospitalità Quindi Un amore Non ipocrita È un amore Zelante È un amore Che si coinvolge È un amore Che si coinvolge Nelle relazioni Con gli altri È un amore Che si coinvolge Nella preghiera Siate zelanti Nella preghiera Ok Ferventi Nello spirito Perseveranti Nella preghiera Un amore Zelante È un amore Che provvede Ai bisogni Materiali Degli altri Ok Ed è un amore Ospitale Quindi Dobbiamo essere Anche zelanti Nell'ospitare Nel praticare L'ospitalità Amen Cose pratiche E cose Pratiche Non visibili Tipo la preghiera Seconda Corinzi 8.16 Ringraziato sia Dio Che ha messo in cuore A Tito Lo stesso zelo Per voi Infatti Tito Non solo ha accettato La nostra esortazione Ma mosso da zelo Anche maggiore Si è spontaneamente Messo in cammino Per venire Da voi Quindi uno zelo Per la missione Uno zelo Per il discepolato Uno zelo Per l'opera Zelo Per l'insegnamento Zelo Per visitare Le chiese Ok Quindi Concludiamo 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 Con questo Gioele 2.18 Dice Il Signore Ha provato Gelosia Per il suo paese E ha avuto Pietà Del suo popolo Dio ha pietà Di noi Chiesa Oikos E per questo Si sta muovendo Con grande potenza E grande gelosia Nel nostro mezzo Amen Ha dichiarato Guerra Al peccato E a ogni idolo Nella nostra vita Che sia controllo Che sia apatia Che sia senso di colpa Paura O chissà che cos'altro Dio ha dichiarato Guerra A questi idoli Per portarci A una vita Di fede Piena E realizzata E noi possiamo Accordarci Con il suo proposito Di costruire Con noi E attraverso Di noi Un popolo Santo Un regale Sacerdotio Amen Dio è appassionato Per la sua causa Dio è appassionato Per la sua chiesa Dio è appassionato Per vedere salvezze Dio è appassionato Per vedere santità Amen Dio è appassionato Per vederci Liberi Nell'adorazione Per vederci Liberi Nella preghiera Per vederci Liberi Nell'evangelismo Perché possiamo Sperimentare La pienezza Del suo amore E lui è molto Risoluto Nell'avere La sua via Nel nostro mezzo E noi vogliamo Possiamo Essere Risoluti Con lui Nel fargli spazio Amen Vogliamo esserlo Vogliamo esserlo Vogliamo dire Sì a quello Che Dio Vuole fare In mezzo a noi Vogliamo dire Sì Al suo carattere Vogliamo indossare I calzari Dello zelo Della pace È uno zelo Che porta pace È una guerra Che porta pace Amen È un combattimento Che porta pace Amen Mi Grazie per la visione!